Avevano messo a segno due colpi a distanza di una settimana, l'uno dall'altro, nel mirino sempre lo stesso supermercato. Adesso la banda è stata individuata e denunciata con richiesta di misura cautelare in carcere dagli agenti dell'ufficio anticrimine del commissariato di polizia di Sansepolcro. Nei guai sono finiti tre cittadini albanesi di 23, 30 e 46 anni. I poliziotti erano infatti intervenuti a seguito di due colpi messi a segno con lo stesso modus operandi. Dopo aver analizzato i filmati del circuito di video e sorveglianza, gli investigatori avevano accertato che entrambi erano stati realizzati da un'unica banda. Così, dopo aver individuato le auto con le quali tre uomini erano arrivati sul posto intestati a società di leasing, gli agenti sono riusciti a risalire ai reali utilizzatori. Inoltre, avvalendosi della collaborazione della polizia scientifica, hanno comparato i volti dei tre individui responsabili dei due furti con quelli di pregiudicati autori di razzie del medesimo tipo. Dal controllo incrociato dei dati ottenuti è emersa la responsabilità dei tre albanesi, tutti clandestini sul territorio nazionale e con numerosi precedenti penali specifici, due dei quali già destinatari di provvedimenti di espulsione. Si tratta di una banda specializzata nei furti con destrezza nei supermercati, solita fare man bassa di bottiglie di superalcolici di pregio e vini blasonati, dopo aver strappato dispositivi antitaccheggio e nascosto la refurtiva sotto gli abiti indossati. Il danno del supermercato della Valtiberina ammonta circa 1000 euro.